salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video su marvel snap eccoci qua c'è il nostro caro ben broad da second dinner e hanno fatto uscire il dev update sulla prossima stagione days of the future past quindi i giorni del passato futuro stagione che partirà fra veramente pochissimo due tre giorni e ci sono novità chiaramente c'è un nuovo season pass c'è una nuova carta nimrod e che cos'è questo nimrod è forse un album dei green day è forse un dio mesopotamico no è in realtà una sentinellona infatti anche qua grazie a marvel snap zone abbiamo un po tutte le informazioni in realtà in questo video di quattro minuti ufficiale di marvel snap ci spiegano un po quale sarà la funzionalità diciamo di questa nuova carta che è particolare e funzionerà in realtà molto bene con i destroyed deck infatti se andiamo qua un po avanti proprio ci spiega che è una 55 che quando viene distrutta si sdoppia e va negli altri due campi adiacenti in realtà negli altri due campi dovunque essa sia quindi funziona bene in realtà con galactus purtroppo o le location che la distruggono o qualsiasi cosa che la distruggerà vedete si splitta e poi va in tutte le altre location e questa giocata con galactus è assurda perché passa da un campo all'altro si distrugge due volte addirittura turno 6 non so se avete capito il galactus giocato turno 6 senza ramp si è trovato la location con lui 2 e 2 5 un po fortino forse ma anche appunto con venom e altre situazioni di destroy quindi sicuramente in questa nuova season almeno all'inizio molti proveranno a fare deck destroy che funziona o non funziona bisogna vedere se riusciranno a outplayare l'attuale meta con tanos l'hawk joe e shuri red skull zero ovviamente dipende anche può essere che arrivano dei nerf di solito ci sono dei bilanciamenti questo abbiamo un secondo all'inizio delle stagioni e quindi insomma vediamo se cambieranno qualcosa inoltre ovviamente usciranno delle nuove carte serie 5 e delle nuove location in questo caso nel video ci fanno vedere queste nuove location e una di queste insomma qua va un po troppo veloce magari utilizziamo il sito perché è più semplice e quindi c'è orchis forge asteroid m e caraca oa craca oa cracoa cracoa ecco queste saranno le tre location nuove e quindi una per settimana ci saranno ovviamente le hot location da 48 ore che molti a molti danno fastidio e vediamo come saranno la prima orchis forge dopo che giochi una carta qui aggiungi una sentinella nella tua mano già perché il fiorouge diciamo della stagione sarà quella dei robot sentinelle e cose di questo tipo e quindi anche queste 8 location rifletteranno la situazione ricordiamoci che sentinelle è una carta un 2 3 che quando la giocate vi ritorna in mano una copia e quindi insomma non ve ne liberate mai e anche qui ci sarà un fiorouge su questa situazione perché questa orchis forge appunto vi mette una sentinella in mano asteroid m invece è una sorta di magneto quando giochi una carta se una 34 la muovi dentro asteroid m quindi cose particolari magari anche con vulture sarà interessante giocarla ma in generale sarà strano quando sarà in gioco perché crema tutte le 34 cost finiranno sempre dentro asteroid m e poi cracoa che una sorta di ego però limitato al turno 5 ovvero al turno 5 cracoa prende mano nella partita e gioca la carta al posto vostro sia vostra quella dell'avversario quindi insomma queste saranno le location ma usciranno anche delle carte nuove ovviamente delle serie 5 come ogni nuova stagione vengono inserite nuove serie 5 ci sarà kitty pride negasonic e master mold kitty pride è una 1 0 che voi potete far ritornare nella vostra mano e in questo punto se lo fate guadagnerà più 2 power la carta ora credo che voglia dire che voi potete farlo ogni turno se volete cioè ogni volta che quella giocate poi quando decidete cosa fare la potete riprendere in mano lei prende il più 2 credo funzioni così non so capire se è fortissimo no fortissimo normale vedremo un po una volta che qualcuno la comincerà a giocare si capirà meglio come funziona però è interessante negasonic invece una 32 che una sorta di carta trappola che nega la zona almeno per un turno perché dice che dopo che è stata giocata fondamentalmente ogni carta che giocata nella sua location distrugge la stessa carta quindi negasonic è quella carta quindi in realtà è una destroy card di se stessa e anche di qualsiasi cosa venga giocata lì è un come se la location diventasse vormir una cosa del genere però anche lei morirà quindi evidentemente fa gioco sempre con i destroy deck in più nega possiamo dire per un turno la giocata dell'avversario su quella location perché se gioca perderebbe la carta o le carte e infine poi c'è master mode che forse è una delle più interessanti per aprire archetipi non ancora esplorati ovvero archetipi che vengono poco giocati in realtà ovvero quelle di cloggare l'avversario cloggare la mano dell'avversario cioè riempirlo di carte e non permettergli di giocare si può fare un pochino ma con questa carta si potrà fare tantissimo perché è una 2-2 e on reveal aggiunge due sentinelle alla mano dell'avversario e come detto prima le sentinelle non ve le levate mai di torno perché anche se le giocate vi ritornano in mano quindi questa carta secondo me sarà molto forte con ronan per esempio da accuser o comunque dei deck un po tossici che cercano chiaramente di non farvi giocare quindi magari con widow maker quindi che non pescate un turno poi un altro turno o vi riempiono i sentinelle poi un altro turno vi riempiono di altre carte magari con maximus eccetera eccetera insomma non riuscite a giocare quello che volete giocare e siete ingolfati di carte e quindi insomma queste sono le serie 5 che usciranno quindi tre serie 5 che usciranno una per settimana più chiaramente nimrod che è la carta premium che si potrà avere soltanto pagando chiaramente il pass premium ma poi comunque diventerà una serie 5 alla fine della stagione e poi piano piano scenderà come è solito fare di tutte le carte che poi sono serie 5 poi diventano 4 poi diventano 3 dopo tre mesi quattro mesi piano piano scendono e questo è quanto ragazzi fra un paio di giorni comincerà questa nuova stagione ci saranno anche delle skin extra per nimrod ovviamente a fine pass per wolverine per sentinelle ma queste chiaramente sono sempre appannaggio diciamo nel pass premium per dare qualche vantaggio estetico e anche di risorse chiaramente e non lo so ragazzi come vi sembra questa stagione nuova che sta arrivando il tema a me piace molto questo retro passato un po anni 80 un po futuristico un po un futuristico vecchio possiamo dire così come stile figo nimrod come carta mi sembra ok non mi sembra così forte in realtà non mi sembra proprio rotta già ovviamente ci sono dei deck che snap zona ci propone per lo più con galactus oppure con i distroi deck ma addirittura qua ce n'è uno con se è cerebro particolarissimo che ho visto un secondo me lo presco qui sotto con cerebro e il cerebro 5 io vi giuro che all'inizio stagione provo il cerebro 5 a me sarebbe non piace come concetto di deck perché è facile che non funzioni per le location o per i debuff degli altri eccetera eccetera però questo secondo me è un po trollissimo e lo proverò forse all'inizio tanto chi se ne frega all'inizio cerebro 5 però insomma qua ci sono un po' di proposte anche se per lo più appunto ricalcano su galactus null death wave electro e cose di questo tipo per farle funzionare però insomma qua sono molto fantasiosi e vi danno anche idee comunque per deck di per tutti i budget anche per le early collection non lo so fatevi sapere un po cosa ne pensate di questa nuova stagione che sta per arrivare e scritto uno sotto nei commenti comunque se siete ancora qui che state seguendo questo video vi dico che domani ci sarà anche un pack opening perché voglio fare un pack opening per la fine della stagione c'ho tutte le casse del pass che non ho aperto quelle oltre il 50 più almeno una quindicina ventina di casse finisco la collection 3 e vediamo se trovo qualcosa interessante di serie 4 o di serie 5 che sono così rare detto questo ragazzi vi saluto a questo punto grazie per l'attenzione grazie per il supporto noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale su questa playlist per marvel snap ma anche sul resto dei videogiochi nel resto dei contenuti mi raccomando controllate anche gli altri video non parlo solo di snap adesso ragazzi statemi bene buona giornata e alla prossima ciao ciao